Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano 6 km di coda tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano rallentamenti tra Aglie e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre in A1 e sempre in direzione Roma rallentamenti ma a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sul raccordo siano a Firenze a causa di lavori scambio di carreggiata con possibili rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis Tiberina sempre a causa di uno scambio di carreggiata per lavori all'altezza dello svincolo di San Sepolcro Sud lo svincolo attualmente chiuso in entrata e in uscita in direzione Roma. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio! Grazie a tutti!